In quest'ultima lezione intendiamo ultimare, terminare il nostro percorso mostrando quali possono essere gli elementi di quella che andremo poi a determinare come una vera e propria proposta. Come anticipato nella lezione precedente, in questa intendiamo mettere a fuoco la riflessione della De Monticelli sull'Ordine del Cuore relativamente alla sua citazione di Rosmini che abbiamo segnalato precedentemente. In primo luogo infatti resta da sottolineare come non sia principalmente nell'opera citata dalla De Monticelli che Rosmini tratta del sentimento fondamentale, non è infatti principalmente nell'antropologia in servizio della scienza morale che Rosmini affronta in modo completo il sentimento fondamentale. Piuttosto è nella psicologia, ma ancora di più in base all'approccio che noi abbiamo voluto determinare è nella teosofia che si realizza tutto questo, è nella teosofia proprio come elemento poderoso della quarta fase della produzione rosminiana nel quale trova sintesi e culmine tutto il suo elaborare ed è a partire dalla teosofia che noi intendiamo rileggere anche come quarta fase le altre opere di Rosmini. Ora per procedere in questo corso intendiamo mostrare principalmente nella teosofia la trattazione del sentimento. Nella edizione della Bompiani curata da Altadini abbiamo la possibilità di reperire oltre che a una poderosa e significativa introduzione come abbiamo segnalato l'indice ragionato delle materie che è quello di Carlo Grai, riveduto, aggiornato e adattato da Samuele Francesco Tadini. Se in questo indice noi andiamo a prendere la parola sentimento, troviamo che nell'indice ragionato la parola sentimento comincia a pagina 2875, termina a pagina 2878 e sono moltissimi riferimenti teosofici al sentimento fondamentale. Tra tutte le voci, tra tutti i rimandi, intendiamo sottolineare i numeri 2471-2473 che, così dicono, nel sentimento fondamentale di per sé considerato sia solo un sentimento scuro della vita animale in cui non possono avere configurazione distinta i sentimenti dell'esteso, dell'eccitamento, dell'armonia. E l'uomo appena esiste non ha il sentimento di sé stesso come principio intellettivo, cioè considerato come termine, perché dapprima esso è solo principio e solo con la riflessione diviene termine. Ora, andando al numero 2466, noi abbiamo la possibilità di approfondire questo discorso e vediamo a che proposito viene che viene elaborato il discorso sul sentimento. Innanzitutto il sentimento si trova nel libro sesto, cioè là dove Rosmini parla del reale. E parlando del reale, nell'articolo quarto si chiede appunto di che natura sia il fenomeno materiale nel sentimento fondamentale. è molto interessante questa riflessione che merita di essere approfondita dal numero 2466 al numero 2470 proprio per voler proporre un dialogo confronto su questi temi in cui troviamo una possibilità di confronto e dialogo con la De Monticelli. A fine di formarsi, nel 2466, qualche concetto della natura che ha il fenomeno materiale nel sentimento fondamentale, conviene rimuovere con l'astrazione della mente tutto ciò che ci viene dato dall'uso degli organi sensori esterni. Rimosso questo non ci rimane più che un sentimento oscuro della vita animale. Questo sentimento della vita animale è certamente limitato, ma noi non percepiamo i limiti di lui separati e distinti da lui medesimo, al che converrebbe che i limiti istessi si erigessero in altrettante sensazioni distinte per uno stoffo diverso, come accade appunto nell'uso dei sensi esterni che ci danno le sensazioni superficiali. I limiti distinti non compariscono se non allorquando si diano più sensazioni a un tempo l'una delle quali limita l'altra per la diversità dello stoffo. Quindi, dato un sentimento solo, benché limitato, non può presentare il sentimento nostro limite distinto di sorta alcuna, appunto perché egli è uno solo, onde non ammette confronti né distinzioni. 2467. Si dirà che nel sentimento fondamentale corporeo vi hanno due sentimenti, quello dello spazio e quello della materia, ma questi primariamente non ammettono confronto perché sono di natura totalmente diversi. Lo spazio è semplice e senza confini. dunque egli non può somministrare il sentimento dei limiti necessari a figurare la materia. La materia ha limiti, ma questi limiti non sono sensazioni, ma solamente sono le superfici dove cessa l'unica sensazione. Ora, perché si sentono i confini del corpo, conviene che nel limite stesso sorga una sensazione avente uno stoffo diverso dal solido fenomenale che in essa finisce. Dunque, il sentimento fondamentale non può avere confini sensibili che gli diano una figura sensibile. 2468. Si dirà ancora che nel sentimento fondamentale vi hanno secondo noi tre sentimenti diversi, quello dell'esteso, quello dell'eccitamento e quello dell'armonia, ma primieramente questi si fondono insieme in un solo sentimento della vita animale. In secondo luogo, essi non possono prescrivere confini al solido fenomenale, però che non sono sensazioni superficiali. Altro dunque non possono fare se non rendere il sentimento della vita un misto di più sentimenti, non tali però che si distinguono per via di figure diverse di limiti che gli mostrino dove l'uno cessa e l'altro incomincia, giacché nello stesso luogo dove l'eccitamento, ivi e anche l'estensione, dove l'armonia, ivi e anche l'eccitamento. Che poi la vita sia un misto di più sentimenti quali insorgono nello stesso continuo non sarà conteso da chi attentamente osserverà che l'uomo non sente ugualmente in tutte le parti del suo corpo, né in tutti i sistemi ed apparati delle sue funzioni, ma tutti questi sentimenti si fondono, come dicevamo, in un sentimento indistinto, però che la distinzione non nasce se non in virtù delle sensazioni superficiali che figurano il corpo e le sue parti. Ancora due numeri, 69. Conviene ancora osservare che l'individuo umano risultando dall'armonia sensibile percepita dalla mente a questo solo sentimento che tutti gli altri abbraccia. Noi poniamo attenzione, siccome nostro e all'incontro non riputiamo nostri quei sentimenti che si considerano come precedenti, a questo per astrazione di mente, a venti per termine, il movimento in estinto, il continuo e lo spazio. Onde, nel sentimento della vita, non abbracciamo questi sentimenti precedenti se non in quanto esistono in esso fusi in un solo ed unico sentimento. Numero 70. Intanto da ciò che hai detto conviene che tiriamo questa conseguenza che il sentimento fondamentale corporeo è puramente fenomenale e che egli non somministra ancora alla mente un sufficiente appoggio da indurre il substratum della realtà pura, come vedessi pur da questo che sentimento è il sentimento della vita animale. Altro colorario corollario se non ancora, cioè che quel sentimento è termine nostro proprio appunto perché è puro fenomeno col quale il principio animale si identifica esistendo in esso come individuo. Bastino queste considerazioni a portare all'attenzione che il confronto con Rosmini da parte della De Monticelli è un confronto soltanto accennato nel quale, confronto invece condotto in termini più approfonditi, avremo la possibilità di trovare un modo diverso di affrontare le problematiche ontologiche, le problematiche fenomenologiche, le problematiche etiche, un modo diverso che non è conflittuale nel senso del termine ma che riprende tutte le istanze, tutte le tematiche che vengono proposte dalla De Monticelli e ci permettono di esprimerle e di ripresentarle in un approccio metafisico, in un approccio filosofico, in un approccio riflessivo diverso, proprio un approccio altro, l'approccio appunto dell'altra metafisica.